A caccia di sprechi nelle scuole piacentine, negli istituti elementari Madvini, Alberoni e Giordani, sono stati installati alcuni sensori per il monitoraggio dei consumi di acqua, luce e gas. Prosegue così il piano Smart City del comune di Piacenza. L'obiettivo è monitorare ovviamente i consumi nelle scuole. Spesso ci sono delle perdite che venivano individuate purtroppo in ritardo, cioè dopo aver visto una bolletta allucinante. D'ora in avanti gli uffici avranno la possibilità, leggendo questa piattaforma che ci viene impostata da Lepida, di verificare prima del problema l'eventuale perdita e quindi un discorso efficientemente energetico e quant'altro. L'intervento è stato realizzato in collaborazione con Lepida, in via sperimentale, all'interno dello stanziamento complessivo di 100.000 euro che comprende altre opere, ad esempio i sensori intelligenti per i parcheggi. I parcheggi intelligenti che come sapete vengono lette.